Adesso cominciamo a trovarci in serie difficoltà. E se lo dice Domenico Cuttaia, prefetto di Venezia, responsabile dello smistamento dei profughi in arrivo nel Veneto, vuol dire che la situazione è realmente critica. A Padova ne stanno per arrivare altri 90. Stamattina sono arrivati in Veneto 457 profughi provenienti da Brindisi e al momento abbiamo trovato la sistemazione per due terzi di essi e mi auguro nel corso della giornata, adesso sono in corso le procedure di identificazione negli uffici di polizia, di poterli sistemare. I posti sono finiti. A Casa Colori, per esempio, il direttore Trabuglio ha fatto sapere che la struttura può accogliere solo 5 persone dopo la fuga di un gruppetto di sudanesi avvenuta qualche giorno fa. E anche in altri centri dove sono stati ospitati i migranti la situazione è al collasso. Dalle prefetture sono stati vanamente al telefono per cercare una sistemazione ai nuovi arrivati. Cuttaia, quindi, non esclude ora la possibilità di requisire alcune strutture pubbliche. È ovvio che nel caso in cui un prefetto dovesse trovarsi di fronte a un consistente numero di persone sulla pubblica via o in piazza all'addiaccio non può fare altro che procedere con strumenti autoritativi e quindi la requisizione quantomeno di edifici della pubblica amministrazione. Gli addetti ai lavori, gli agenti di polizia, intanto fanno sapere che ci sono problemi con il fotosegnalamento. Molti immigrati, al momento dell'identificazione, oppongono resistenza.